Simone Rosalba, Gerardi Svicita di Castello, prima di tutto vogliamo sapere come stai a livello fisico perché c'è curiosità, i tifosi vogliono vederti in campo Sì, diciamo che sto recuperando, ho avuto un blocco alla schiena una cosa che mi capita ormai da diversi anni, con la quale ormai convivo diciamo che non fa piacere, perdo un mucchio di tempo di preparazione che per me era fondamentale, più avanti con gli anni più ne hai bisogno e quindi mi dispiace molto non riuscire a farlo però è andata così, adesso sto cercando di recuperare, sto meglio ho ricominciato ieri con gli allenamenti un po' più intensivi e spero che adesso andiamo avanti meglio Sei una delle colonne del team Tifernate, che squadra è nata, che squadra sta nascendo? La società ha puntato sicuramente molto sui giovani Anche i due stranieri sono giovanissimi, non li conosco benissimo però hanno militato in squadra di vertice, seppur facendo la panchina però sono entrati molto, stanno facendo molto bene con la loro nazionale Ho potuto vedere in opera il tedesco una settimana quando è stato qui con noi e devo dire che mi ha piacevolmente impressionato delle doti fisiche non indifferenti, credo che una o due possa fare la differenza e quindi sono molto ottimista, in più anche i ragazzi della panchina sono molto giovani però hanno molta voglia di lavorare e hanno anche grandi qualità tecniche Pubblico caldo, società ambiziosa e seria come sempre c'è da migliorare quel risultato dello scorso anno, ci credete voi? Beh, sono un po' di anni che dobbiamo migliorare il risultato dell'anno precedente diciamo che tutti e due gli ultimi anni non è stato per colpa nostra perché in tutte e due le occasioni ci sono mancati gli stranieri nel momento più importante della stagione, in semifinale il primo anno per infortunio, il secondo anno perché la nazionale li ha richiamati prima e diciamo siamo usciti non proprio per demerito nostro quindi c'è un po' di rammarico per questo quest'anno le cose sono state fatte sicuramente meglio a meno che qualche sfiga non sia dietro l'angolo però diciamo che sappiamo che possiamo giocarcela anche in semifinale con tutte le nostre carte poi come ti dicevo prima siamo una squadra giovane che crescerà tanto durante l'anno e quindi sono ottimista non ti dico dove però migliorarsi vuol dire arrivare almeno in finale quindi ci speriamo Sora sulla carta è la squadra forse più forte? Sì sicuramente sì, allenato dal mio vecchio amico allenatore Ricci credo che ha fatto sia la squadra più equilibrata anche quella che ha spesso di più diciamo che loro puntano a salire cioè hanno l'obbligo di salire anche per quello che hanno investito quindi sicuramente avranno anche molta pressione addosso però hanno fatto una squadra che sicuramente sulla carta merita di salire noi proveremo a mettergli bastoni tra le ruote Ultima cosa, come vedi il volley italiano insomma a riduce del bronzo olimpico? Tu che sei stato anche una bandiera della nazionale che momento stiamo vivendo? Ma io credo che del bronzo olimpico dovremmo essere solo contenti come credo che siano contenti i ragazzi sono andati lì secondo me non sperando in così tanto quindi sono stati bravissimi il futuro della pallavolo come il futuro in generale mi sembra abbastanza incerto abbiamo perso tre squadre in A2 se non sbaglio altre tante in A1 e questo fa capire del momento storico che stiamo vivendo credo che si siano fatte anche scelte non proprio eccezionali non voglio essere critico però io da quando gioco a pallavolo ancora delle scelte per migliorare la situazione ancora non ne ho viste sono vent'anni che gioco a pallavolo non sono molto ottimista credo che bisogna cambiare qualcosa in chi gestisce questo sport più che qualcosa forse qualcuno e vediamo